Allora eccoci qua, buonasera amici, ben ritrovati. Il nostro tour di Natale che poi è già iniziato nel fine settimana ma poi in questi giorni si è un po' interrotto, riprende e parte ufficialmente da quest'oggi. Allora siamo qua in Piazza Perretta, a Como, centro Como e vi volevamo far vedere queste proiezioni che sono sicuramente decisamente suggestive e che anticipano di fatto quelle che ci saranno anche nei prossimi giorni in altri punti della città. Queste sono le proiezioni che sono sulla facciata della ex Banca d'Italia come potete vedere e queste sono invece le casette del mercatino che ha aperto già sabato e che resterà qua per tutto questo periodo. Non ci sono ancora le musiche di Natale ma ci sono solo le proiezioni come potete vedere. Allora già che ci siamo facciamo anche un salto qua proprio all'interno delle bancarelle che ci sono da una parte e dall'altra, dalla lavanda in questo caso ai dolci e poi altre specialità che arrivano dal Comasco ma non solo. E poi come dicevamo vedete anche sulla facciata della Banca d'Italia questa bella proiezione, qui sono appunto altri tipi di bancarelle, c'è un po' di tutto insomma e questo è il proiettori che vengono usati proprio per la proiezione. Ve lo faccio vedere meglio da distante perché si può gustare sicuramente meglio. Tanto in questi giorni stiamo vedendo un po' tante novità, tra poco seguiteci anche su Instagram perché siamo anche lì così vi facciamo vedere un po' di altre cose ed è arrivato oggi l'albero di Natale, ve l'abbiamo già fatto vedere, il grande albero che è stato già collocato questa mattina in Piazza Duomo e che poi domenica pomeriggio alle 18 sarà acceso ufficialmente dalle autorità e dagli organizzatori e anche dagli sponsor. Bene, questo dunque è il nostro Natale a Como che è già partito come abbiamo visto e questa è una delle suggestioni sicuramente più belle. Poi ce ne saranno tante altre, ci hanno assicurato, arriveranno in Piazza San Fedele, in Piazza Duomo appunto dove c'è l'albero da questa mattina ma da domenica sarà poi acceso e poi ci sono tante luminari e poi ve lo ricordo ancora c'è anche la pista del ghiaccio qua in Piazza Cavour. Questo è sicuramente uno degli impatti più belli di questi giorni al fianco delle bancarelle, come vedete, del mercatino, mercatino non solo prodotti gastronomici ma un po' di tutto, in questo caso c'è il tartufo e poi c'è anche la Puglia come potete vedere, poi c'è un po' di Como, c'è un po' di tutto insomma in questo mercatino. Come ho detto resterà qui per tutto il periodo delle feste. Questa dunque è la facciata, la ex Banca d'Italia che si presenta così tutti i giorni, spirito completamente natalizio, proprio in buona parte anche del resto della città perché ci sono anche altre zone che sono sicuramente così belle e così addobbate, tra cui come vi dicevo oggi l'albero che è arrivato questa mattina in Piazza Duomo, ve l'abbiamo già fatto vedere, lo potete vedere anche sui nostri canali social ma adesso magari lo usiamo anche per gli amici di Instagram perché anche loro ci seguono tutti i giorni, abbiamo delle piccole pillole e questa sera vi facciamo vedere appunto qualche altra cosa di particolare. Noi ci fermiamo, allora per il momento il nostro tour di Natale parte dalla città, nei prossimi giorni andrà a toccare anche tutto il resto del territorio. Colgo l'occasione per dirvi cari amici che se avete iniziative, eventi, iniziative, mercatini e quant'altro, scriveteci pure in redazione e fatecelo sapere appena possibile così organizziamo anche la nostra visita. Quindi iniziative, mercatini, iniziative di Natale, eventi, Babbo Natale, slitte e quant'altro, ecco noi ci siamo, fatecelo sapere, vediamo di organizzarci. Intanto è tutto, vi saluto dal centro di comodo, Piazza Perretta con la facciata della Banca d'Italia, come potete vedere che ha questo bella tocco del tutto di festa, natalizio, il rosa e poi anche tanto tema di Natale. Grazie, buona serata e a domani! Grazie!